Abbiamo questo documento rarissimo Allora comincio io Chi la conosce? Maria Angela Felice Quante persone ti sono andate? Tu c'hai limonata Io ho quasi preso un paureto Ma abbiamo fatto il bagno Ma questo che si è offesa Non c'è per forma d'inglese L'olio da bagno L'ho spruzzato Sta cosa mi sta a sfuggere Aia Guarda Quindi alla fine c'è una finità